Ciao a tutti! Vi va di dare un tocco kawaii alla vostra scrivania? Se sì siete nel tutorial giusto perché vi farò vedere come fare questi fermacarti a forma di coniglietto. Ci serviranno DAS, formina per uovo sodo a forma di coniglietto, colori acrilici a vostra scelta, io ho scelto bianco, fucsia, nero e giallo, vernice lucida per il DAS e due pennelli. Questi fermacarte sono facilissimi da realizzare perché tutto ciò che dovremmo fare sarà prendere una porzione di DAS, metterla nella formina aperta per metà, fare un po' di pressione sopra e tirare via con delicatezza la pasta modellabile sollevandola piano piano e progressivamente prima dai bordi e poi del tutto. Come vedete rimarrà impressa la formina che in questo caso è un dolcissimo coniglietto. Aiutandoci con una spatolina o con qualcosa di simile togliamo via i bordini in eccesso. Creiamo tutti i coniglietti che vogliamo e lasciamo che il DAS si asciughi all'aria. Una volta che le creazioni saranno asciutte e solide coloriamole con i colori acrilici e aspettiamo che il colore si asciughi. Poi perfezioniamole nei dettagli. Con uno stuzzicadenti possiamo grattare sulle parti dove c'è colore di troppo, o dipingerle dei colori che preferiamo, oppure lisciare le parti grattate utilizzando un cotton bioc. Ora manca solo l'ultimo tocco, ovvero la lucidatura. Pennelliamole completamente con la vernice lucida e lasciamo che anche questa si asciughi. Nel giro di pochissimo tempo i nostri fermacarte saranno pronti per rendere kawaii le nostre scrivanie ed ogni fogliettino a punto volante. A volte basta solo guardare oltre la funzione ovvia degli oggetti per creare qualcosa di semplicissimo ma capace di infondere colore d'allegria, proprio come questi coniglietti nati da una formina per uova sode. Cosa ne pensate? Spero tanto che questa idea vi piaccia e che la troviate carina e divertente. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao! Ciao!